Anche i ragazzi del mondo unito oggi in larga barriera per dire sia la pace e non la guerra. Siamo qua soprattutto per supportare la nostra amica Dasha, che è Ukaina, e la sua famiglia, ma in generale per dire no a questa follia assurda che sta succedendo adesso. Come vi state vivendo questo momento di guerra? È molto inaspettato, c'è un po' scioccato tutti, leggiamo spesso le notizie, ci teniamo aggiornati, è molto strano, è molto alienante come cosa. Stiamo avendo molte conversazioni, stiamo parlando molto di quello che sta succedendo, ma più di questo non possiamo fare e spezza quasi il cuore perché ci sentiamo molto impotenti.